Ancora un incidente nella giornata lunedì 29 aprile intorno alle 14.30 sulla Pedemontana, strada provinciale 565, questa volta all'altezza di Parella. Coinvolti tre mezzi, una Dacia Duster, una Peugeot 2008 e una Fiat Panda. Il bilancio di tre persone ferite su cinque coinvolte, il conducente della Dacia e la coppia a bordo della Peugeot, il laser e due persone che erano sulla Panda. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo Canavese, i carabinieri della stazione di Ivrea Banchette e il nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Le tre persone ferite, dopo le prime cure, sono state trasportate all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita, la dinamica al valio dei carabinieri, disagi al traffico veicolare. Grazie a tutti!